Questa mattina a Pozzuoli, in piazza Italo Balbo, il Movimento 5 Stelle, il meetup di Pozzuoli ha promosso una raccolta di firme e il cittadino portavoce alla Camera, Vincenzo Caso, è qui per sostenere questa raccolta di firme e per spiegare ai cittadini di cosa stiamo parlando. È una raccolta per il referendum costituzionale. Sì, noi siamo qui ovviamente per chiedere la partecipazione dei cittadini. I cittadini hanno bisogno di informazione sul referendum perché la maggior parte dei media nazionali soprattutto continua a fare disinformazione, spinta dal nostro bene amato Presidente del Consiglio che continua a dare informazioni farse a rete unificate, mentre noi che siamo più invece legati al territorio siamo qui sui banchetti, nei nostri territori per dare la vera informazione su quello che è il pericolo di questo referendum. Con questa riforma costituzionale che ridefiniamo schiforma costituzionale in realtà c'è un reale pericolo per la democrazia del nostro paese. E quindi noi siamo qui oggi a chiedere ai cittadini di darci una mano, di venirsi ad informare e di lottare insieme contro questo scempio che tutti insieme possiamo fermare. Quindi chiediamo a tutti i cittadini putiolani di venire qui e darci una mano, di venire a firmare oggi. Quello che viene fatto è un accentramento dei poteri nelle mani di un'unica persona che sarà il Presidente del Consiglio e il futuro Premier in quanto legando questa riforma insieme al combinato disposto della riforma con la legge elettorale che oggi siamo anche qui per raccogliere firme e anche per abrogare parti della legge elettorale dell'Italicum questo fa sì che anche con pochissimi voti in realtà un partito può avere una maggioranza spropositata all'interno della Camera e decidere anche su quelli che poi sono gli organi di garanzia che invece dovrebbe essere il contrappeso del potere del governo. Stamattina è stata anche l'occasione per presentare alla cittadinanza due proposte del Movimento 5 Stelle per sostenere l'imprenditoria locale e i prodotti del territorio. Certo, noi rimanendo sempre sul tema della partecipazione proponiamo due strade. Intanto il bilancio partecipativo che riteniamo sia necessario per Pozzuoli è un sistema gestionale dell'amministrazione che ci permette di rispondere a istanze, coinvolgere la cittadinanza tutta e rispondere alle istanze della stessa cittadinanza. Per quanto riguarda invece i sistemi gestionali, quelli legati all'imprenditorialità locale noi siamo per una imprenditorialità sostenibile socialmente. Ci riferiamo al sistema gestionale della fondazione di partecipazione che già abbiamo proposto per il rione Terra e sul quale siamo stati ignorati. Il sistema gestionale che proponiamo è un sistema che fonde la produttività a tutto il mondo dell'imprenditoria, in realtà con l'amministrazione che ne deve tutelare gli aspetti socioculturali.